Francesca e Righi si godono il primo giorno del piccolo Edoardo e ringraziano a tutti. Va meglio adesso col pizzarello all'asciutto? Molto meglio! Molto molto meglio! Buongiorno da me e da Edoardo che legge tutti i vostri commenti e vi ringrazia per i complimenti. Vero amori? Francesca riempie di baci il piccolo Edoardo e Righi invece scherza con lui. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti.